Benvenuti e bentornati nel mio canale YouTube. Questo video è dedicato all'aritmetica binaria. Vedremo un'operazione con numeri binari. In questo video parlerò della sottrazione. C'è già un video nella playlist che riguarda l'aritmetica binaria che riguarda l'addizione. In questo video semplice vedremo come fare una sottrazione tra numeri binari. Ad esempio, quanto fa 1-1, 1-0, 0-1, farà meno 1. In decimale ci verrebbe così, ma certamente non può venire meno 1 in binario perché il binario ha semplicemente due cifre 0 e 1. Quindi vedremo ad esempio un'operazione di questo tipo perché ottiene questo risultato. Ma andiamo avanti. Non cambia molto eseguire una sottrazione tra numeri binari così come per una sottrazione con valori decimali. Si devono mettere in colonna le cifre e dopo si fanno le singole sottrazioni considerando gli eventuali prestiti. Quando si deve sottrarre dalla cifra 0 alla cifra 1 occorre chiedere un prestito alla cifra di ordine immediatamente superiore così come nel decimale. E questo prestito vale due unità dell'ordine rispetto all'ordine immediatamente inferiore. Ma riassumendo ovviamente 0 meno 0 avrò 0, 1 meno 0 ottengo 1 1 meno 1 ottengo 0 Vedremo in questo caso particolare 0 meno 1 il risultato sarà E1 dopo il prestito di un'unità dalla colonna con valore più vicina alla sua sinistra. Vedremo nelle prossime slide perché dobbiamo fare così qual è il senso. Ma vediamo un esempio dove non c'è alcun prestito. Vediamo la cifra 1 1 1 1 0 meno 1 0 1 0 Questo qua è in binario questa cifra in binario vale 30 in decimale invece 10 1 0 1 0 in binario vale 10 in decimale e il risultato è 1 0 1 0 0 in binario ed equivale a 20 in decimale. Quindi come abbiamo visto quali sono le condizioni di sottrazione ovviamente mi trovo i due numeri in colonna e faccio la sottrazione delle simole cifre 0 meno 0 mi da 0 1 meno 1 mi da 0 1 meno 0 mi da 1 1 meno 1 mi da 0 1 non ha prestato niente leggermente tirchio e quindi rimane questo risultato. Questa è la forma più semplice di sottrazione nessun prestito e quindi andando a verificare questo valore questo valore in decimale è 20 esattamente come 30 meno 10 deve dare 20 eccolo qua. Vediamo adesso perché perché 0 meno 1 ci da 1 e non meno 1 per il motivo che riceve un prestito una cifra dalla posizione precedente con il prestito di una cifra la sottrazione non diventa 1 meno 1 ma diventa 10 meno 1 e in binario 10 meno 1 è uguale a 1 il concetto il concetto di questo riporto è uguale a quello del sistema decimale che vediamo nell'esempio sottostante facciamo questo esempio 56 meno 38 minumende so 30 ovviamente non posso sottrarre il 6 l'8 o il 6 quindi mi faccio prestare un'unità ma questa unità non è diventa 7 questa unità è una diecina quindi diventa 16 meno 8 ovviamente sto dicendo delle banalità tutti quanti anche le scuole elementari conoscono questa cosa per cercare di capire il meccanismo anche per che equivale al sistema binario nel sistema binario quando facciamo il prestito da una colonna all'altra il suo valore aumenta di 1 ma è come se ricevesse in prestito 2 volte 1 2 1 nel sistema binario per rappresentare il valore 2 sono necessarie due cifre 1 0 1 0 eccola qua binario 0 o 10 in binario meno 1 in binario il prestito lo riceve dalla colonna precedente e quindi passa qua non passa 1 meno 1 ma passa qua quindi mi trovo 10 meno 1 ma 10 meno 1 da 1 per quale motivo perché il valore 0 u 1 0 corrisponde al decimale 2 questo corrisponde ad un valore decimale 1 2 meno 1 da 1 vediamo allora il nostro esempio con prestito dalla cifra 1 0 1 1 0 che vale in binario decimale 22 alla cifra 1 1 0 1 13 in binario il risultato sarà 1 0 0 1 binario 9 decimale vediamo cosa succede partiamo da questa condizione ovviamente 0 meno 1 non posso sottrarlo mi faccio prestare la cifra dalla colonna precedente che passa qui e questo diventa 0 ovviamente abbiamo detto che 10 meno 1 1 0 meno 1 da 1 poi mi ritrovo 0 meno 0 da 0 1 meno 1 da 0 e mi ritrovo di nuovo 0 meno 1 il prestito lo prende da questa cifra qua adesso vediamo che questo è diventato 0 questo è ritornato ad essere 0 1 quindi mi ritrovo di nuovo 1 e questo da 0 è rimasto 0 e questa quindi abbiamo visto come eseguire l'esempio con prestito il caso particolare è quando nella prima colonna a destra si presenta 0 1 ma si può presentare anche in mezzo non è questo è quello che si deve presentare per forza in fondo e dobbiamo fare il prestito dalla cifra precedente che anche questa è 0 dice mamma mia adesso chi mi presta qualcosa mi vado in banca vediamo un esempio abbiamo qua 1 1 0 0 0 1 1 1 mamma mia dice come facciamo come fare in questi casi quindi questa sottrazione in binario sarebbe 24 meno 7 in decimale deve darmi il valore binario 7 che è questo qua come fare in questi casi ovviamente lo 0 vediamo i casi particolari quando si hanno un caso particolare quando nella nostra sottrazione nella prima colonna a destra si presenta 0 meno 1 dobbiamo quindi necessariamente avere un prestito dalla colonna precedente ma in questo caso è ancora uno 0 adesso non importa che sia l'ultima colonna a destra può essere anche delle colonne centrali che comunque ci siano degli 0 una serie di 0 conseguenti l'uno all'altro contigui quindi non possiamo prendere il prestito da questo e neppure da quest'altro come si opera allora in questo caso? lo 0 ovviamente non può prestarci nulla quindi dobbiamo prendere il prestito al valore 1 dal più vicino al nostro 0 quindi non può prenderlo di qua non lo prenderlo di qua lo prende da questo lo prende da questo ed ecco che diventa 1 0 una particolarità di questo caso è visto che noi trasliamo questo in prestito questo valore su questo che diventa 1 0 ma da modifiche il valore degli 0 in 1 dappertutto quindi qua metto 1 0 1 1 davanti questo diventa 1 e quest'altro diventa 1 quindi ricapitolando la cifra 1 dal primo 1 che troviamo nelle cifre precedenti le facciamo traslare fino alla colonna dove ci serve il prestito eccola qua da notare che il prestito che viene traslato tra le varie cifre tra le varie cifre 0 le trasforma tutte in 1 di conseguenza avendo questo tipo di sottrazione 1 1 0 0 0 che meno 1 1 1 in binario in binario che corrisponde 24 meno 7 in decimale il risultato è 17 quindi andiamo a vedere facciamo prima la traslazione questo lo prendiamo diventa 10 e trasformiamo questi due 0 in 1 ovviamente questo ha ceduto l'1 e quindi diventa 0 quindi adesso la sottrazione conclusiva è questa quindi qui abbiamo 1 0 meno 1 che abbiamo detto è 1 0 0 0 1 questo valore corrisponde a 17 per quale motivo? perché questo è 2 alla 0 vale 1 2 alla 1 2 alla 2 2 alla 3 2 alla 4 2 alla 4 vale 16 16 più 1 fa 17 quindi direi che abbiamo concluso se non faccio un'anteprima di ciò che possiamo vedere nei prossimi video che sono in preparazione i prossimi video sulle operazioni con i numeri binari sull'artimetica binaria parlerò di moltiplicazione e divisione e poi della conversione da binario con virgola fissa a decimale e viceversa da decimale con virgola a binario per quanto riguarda le conversioni da binario a decimale da decimale a binario senza virgola c'è già un video sul mio canale ma non solo da decimale a binario ma anche in altre conversioni così vi ringrazio per la visione di questo video spero che sia stata interessante che possa servirvi vi auguro una buona continuazione di navigazione su youtube e arrivederci al prossimo video